Sto preparandovi il video per la sanificazione e l'igienizzazione Spiegarvi Bisogna svuotare l'acqua dal camper Ma non in questo modo Quindi per favore gira Grazie Perché non potete mettere sotto sotto Dai, dio bono Su È lento il mio operatore C'è anche il dito che va in mezzo all'inquadratura Voi li vedete di tutti Adesso a parte gli scherzi Vi spiego che cosa vi serve Per fare la sanificazione e l'igienizzazione Del camper o della roulotte Per prima cosa dovete avere l'acqua Acqua La seconda cosa Il sanificante e l'igienizzante di acqua trave naturalmente E la bottiglia vuota Bene, adesso a parte gli scherzi Abbiamo iniziato un po' giocherellando Però come si fa realmente la sanificazione e l'igienizzazione Dovete svuotare tutto l'impianto Dell'acqua chiara del camper Quindi attraverso il bocchettone di scarico del serbatoio Svuotate bene anche il boiler E poi una volta che è vuoto il serbatoio Dovete fare andare a vuoto la pompa Aprendo i rubinetti Sia calda che fredda In modo tale da svuotare anche tutti i tubi Dall'acqua Ecco, questa operazione è solo una cosa tecnica Che vi spiego fra qualche secondo Una volta fatta questa operazione Che avete svuotato bene tutto il camper Prendete la bottiglia Vabbè, l'aprita A questo punto perché ci serve Dobbiamo prendere Ci serve la bottiglia vuota Aprite la bustina di sanificante e igienizzante Voi sarete un pochettino più comidi Di quello che sono io In questo momento però Visto che le cose le facciamo in presa diretta Come potete vedere non c'è neanche un taglio Mettete il sanificante e igienizzante nella bottiglia Perché facciamo questa operazione? Uno mi dirà Ah, io la metto dentro direttamente dal tappo di ispezione Facendo questa operazione A parte che è un leofilizzato Quindi qui vedete bene che si scioglie Ma comunque questo non serve un problema Se riempiamo la bottiglia Come faccio adesso? Attenzione, camera me Attenzione, mi segue Mi segue Apro Apro mio Come potete vedere c'è anche il filtro compact Nel momento in cui io riempio la bottiglia Il sanificante e igienizzante si scioglie Perché comunque come dicevo prima È un leofilizzato Bene Allora Chiudo Vado alla ricerca del tappo che ho messo in tasca Voi sarete molto meno imbranati di me sicuramente A questo punto lo agito E vi stavo spiegando perché conviene fare questa azione Piuttosto che buttarla dentro la tappo di ispezione Mi segui? Perché quando voi prendete Tutto il prodotto Che si è ben sciolto Avete visto 30 secondi E lo buttate dentro nel pochettone Questo Va a Diciamo intaccare Insomma Va a Agire anche Su tutto il tubo che porta al Che porta Come si dice Al serbatoio Adesso Non dovete fare altro che riprendere la canna dell'acqua Anche se sparisco dall'inquadratura Voi mi capirete Io mi sono già attrezzato con Una bella cosa qui E fate il pieno Aprite e fate il pieno Vieni a vedere Vi faccio vedere una cosa Che poi magari Lo faccio Subito dopo questo video Ve ne faccio un altro Vi faccio vedere Questo È il nostro filtro compact Cosa fa questo filtro compact Praticamente Come potete vedere È tutto marroncino Perché è già Sei mesi che lo sto usando Nel mio camper Bene Questo ferma tutte le impurità Che Altrimenti Finirebbero dentro nel serbatoio Ve lo faccio vedere Il filtro Praticamente nuovo Aspettami Ecco vedete Questo è un filtro nuovo È bianco Guardate la differenza Bene Dopo aver fatto Questo tipo di operazione Vi farò Vedere come si fa La sostituzione Del filtro A sedimenti Bene Io Adesso Mi fermo un attimo Perché Faccio il pieno Del serbatoio E vi faccio vedere Come dovete fare Poi Per Riempire bene Tutto l'impianto Adesso ci siamo Trasferiti all'interno Del camper Prima Vi ricordate Che vi ho detto Di svuotare Facendo andare a vuoto La pompa Tutti i tubi Bene Perché Perché è una cosa Tecnica Perché vi serve Questo tipo di Di azione Per essere sicuri Che il prodotto Arriva fino Al rubinetto Voi dovete Farsi Di far scorrere L'acqua Fino a quando Il flusso È come questo Vedete Bello Bello pieno Senza sbruffare Aria Ok Lo dovete fare Sia sul rubinetto Sia sul rubinetto Dell'acqua fredda Che sia Sia sul rubinetto Dell'acqua calda Se C'è ancora aria Vuol dire che il tubo Non è bello pieno E quindi Non essendo bello pieno Il prodotto Non va a gire Dove ci sono le bolle D'aria Dentro nel tubo Questa operazione La dovete ripetere Sia nella doccia Quindi calda E fredda Sia per il lavandino Del bagno Lasciate passare Almeno Due Tre ore Nel mio camper Io lo lascio dentro Più giorni Tre Quattro giorni Una settimana È un prodotto Tossico È a base di ossigeno Quindi Non va a rovinare Assolutamente Né o-ring Né guarnizioni Né membrane Dalla pompa Lo lasciate dentro Tutto il tempo Che volete E poi Poi cosa dovete fare Dovete Suotare il serbatoio Ma questa volta Lo dovete Suotare Tutto Attraverso i rubinetti Perché È importantissimo Dovete aprire Il rubinetto Dell'acqua fredda E farlo scorrere Per Due Tre minuti Poi Chiudete E aprite Quello dell'acqua calda E fate scorrere Due Tre minuti La stessa cosa Andate in bagno La fate con la doccia E con l'altro lavandino Perché È importante Per due motivi Il primo motivo È che la pressione Della pompa Porta via Tutto lo sporco Che si è sciolto Perché indietro Tanto non tornerebbe Verso la pompa Non riuscireste mai A eliminarlo dal tubo Il secondo motivo È che Tutta quell'acqua Che voi buttate via Vi finisce Nelle acque grigie Dove lo lasciate dentro Due giorni Pulisce anche quelle Poi cosa fate Prendete Buttate dentro 30-40 litri Di acqua pulita E rifate un lavaggio Facendo sciacquare un po' Il tubo Bene Questa è la sanificazione E la disilienizzazione Del camper O della Rulot O della barca Insomma Queste sono le basi Quella bustina Che avete visto Va bene dagli 80 Ai 150 litri Tranquillamente Ecco Se voi avete Più tempo Lo lasciate dentro Più questo agisce Quindi Non vi preoccupate Ah ma io Ho un serbatoio A 120 litri Perché ho Questo camper Che ha due serbatoi Ecco Attenzione Due serbatoi Per i due serbatoi Bisogna avere Due bustine L'unica accortezza Che bisogna fare È che una volta Che avete riempito I tubi in cucina Prima di aprire L'acqua Nella doccia Dovete Cambiare I serbatoi Perché Perché così Almeno anche Quel tubo Che dal serbatoio Porta la pompa Si pulisce Se no Altrimenti Quel pezzettino di tubo Ricontaminerebbe Tutto l'impianto Con questo ho finito Adesso torno A fare il mio Bagno In spiaggia Visto che sono Anch'io In vacanza Grazie a tutti